musica stavo a scaricare fuori se tengo il pc acceso col citofono ah il pc acceso col citofono capito eh beh c'ho il citofono weston ah io provo a stilargli il papa beh dai il ping è sopportabile quant'è 120? 40 ah 40 ah si è disconnesso ciuchino vabbè comunque ragazzi aspetta che devo startare io? scarpe sempre orco quindi il trinket non si può mettere uno prendete il trinket rosso o il blu prendete il blu scarpe 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 niente trinket niente trinket giallo luigi perché no? perché no le ward non si possono usare di nessun tipo no si possono usare il trinket no i trinket no valla a vendere vendi del trinket valla a vendere valla a vendere valla a vendere dai luigi ma perchè devi sempre fare lo stronzo del turno? perchè devo rubare il loro red no esiste il trinket blu per quello eh? che palle che sei no si lo vedo per mezzo secondo tipo che palle che sei luigi sei proprio inutile comunque ragazzi ciao a tutti qui a jesnachine siamo in compagnia con i medless e un membro temporaneo dei medless vigo med vigo medless vigo medless m col puntino che abbiamo no vabbè a parte tutto c'abbiamo montic che sta pacciando ciò che c'ha problemi quindi vigo si è offerto di sostituire vai 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 ovviamente dai ricordiamo che questa snake è l'ultima prova mi ricordi me no 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 stai minchiate no ma perchè ma frega ahhh vabbè raga ma già parto con il vantaggio poi vedete pure a stile red mi pare giusto allora arrivate con il blu so clinch allora stavo dicendo che questa qua è un ultimate bravery con i medless punto e ci abbiamo la build qui sopra no qui o forse qui non lo so vabbè o forse lì vabbè insomma e potete vedere la mia build che andrò a fare quest'oggi con questa ultimate bravery proveremo almeno oggi a vincere questo cazzo di game ma ancora non ci siamo riusciti quante ultimate abbiamo fatto? mmm due no è stanzato dal blu nooo allora arrivo luigi allora aspetto eh niente stavo facendo quest' ultimate bravery e banana banana niente non c'è altro da dire no luigi perchè sei andato via eh no arrivo arrivo a parte che io ho la build più bella della storia oh oh c'ho lo stun c'ho lo stun eh se arrivo lo stupriamo ma io c'ho lo slow eh lui ci metti il trinket non mi preoccupare che ho il tp oh regà ma perchè io c'ho leveling top già subito perchè perchè sta andando al mio red eh vabbè allora prendo questo io zio io non lo posso smitare smitalo 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 ora anch'io così gli stilo qualche altro robot della jung adesso ancora l'uomo il trinket blu quanti secondi oh due minuti di cooldown looking good damage vado quando l'ho shottata l'avevi visto p allora vediamo un po' oddio raga che è successo campera sta puttana di merda oh mio dio la torre nooo che peccato ancora sta torre ninja no allora io gli ho preso probabilmente tutti i minion grossi della giungla posso andarmene ora Luigi hai visto i miei danni con la air allora dovrei fare ste scarpe quindi ancora non posso comprare niente ok vediamo io provi alla stitare dai ragazzi come sforzo non sto poccando una che gg io sono andato in back e non ho potuto comprare niente dite che è worth si perchè no toccato a mi fanno malissimo no ma fa culo ha fatto hanno usato tutte le summoner qua ho capito madonna sta prego amico sopravvivi nooo ma lasciate il minion piccolo ma fortuna che ci sono le cose per rigenerare nooo mi do purtroppo maxare la v quindi il mio scudo non sarà molto utile mi do maxare la r mi do maxare la r mi sforzo una p a di carry ovviamente mi sforzo una p mi do una mana snake arrivo Luigi tranquilli mia fps a 17 ci aiuteranno ok ci stai? nooo è vero non c'è flash non c'è flash non c'è flash snake uccidila uccidila uuuu no Luigi Luigi le gank aaaaah no ragazzi eh anche qua fanno le gank nooo ma come? nooo adesso hanno davvero zero summon però che culo lei dai ma porca troia ci vado raga ma vance vance che ti ammazza vai eh oddio dimmi che c'ho abbastanza gold per chi c***o aspetta aspetta che sta lux viene qua diodio se viene qua oh mamma mia vai 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 oh mamma mia ecco troppo too later 75 ho già fatto le cupcake che pole no no snake 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 go eeeh madonna che pole vai c***o oh ahahahahah bestia le porti ma io devo fare i cosi e magic tale porta eh si ma tu ho preso uno oh ragazzi siete pronti per gankare qualcuno tutti insieme eh ah io ho usato il teleport bid che mi stava bruciando e c'ero mette le pocce a smite oh 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 allora appena vediamo gare ne andiamo tutti insieme ok ma almeno le pocce le posso comprare si si le pocce si si le pocce si sono comprabili minchia minchia almeno quello vero oh raga vado back e poi andiamo tutti top appena vediamo gare ma perchè non si può si scollai è comunque un award ma davvero ma come no aspetta aspetta sto andando in back no domandi che devo poi no ha il potenziamento rosso che palle ci sono eh raga ci state voi ne l'ho fatto io sul minion questo qua eh pronti eh morgana mi fa il binding eh io l'ho usato no come l'ho usato ah è vero vabbè ci stai vabbè io arrivo no non me l'ho dato arrivo buttalo dietro ma è questo e tf ma te devi vintare una forza di a d almeno ma sei cangato la torre forza aaaaaaah va bene il portale è morto non so se è stato morto però è stato figo eh ho tre il discorso cioè vabbè ma l'avevi già usato il tirarlo indietro? si ma non mi è entrata neanche la passiva veramente oh come no? oddio ci dai però davvero? no the bug no vabbè raga cioè non fiddate per piacere eh ma porca droga oh oh che devo bildare? oh 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 aspetta il coso come si chiama? il solari dovevo io a luigi questa bottiglia era ancora più facile se io non l'avevo smite ma perchè non l'hai smitata? è vero oh ciao insomma la distorzione mi rivolta col flash o più che tristezza sta morgana come che tristezza? cioè se tu sei new po' non è col tuo amica sua? mhm oh 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 luigi 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 le tiro leggi ha visto? ha visto che non sto maxando la Q e mi viene vedo vedo vai 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 andiamo a kit ooo mon dio che dammi manca meu organ wow omem da tu di razz raga se qualcuno c'è il teleport ti ha una mano a VGG lo vedo un po' ma im mid game perchè in late non credo che arriveremo. Chi è che farà più danni qua dentro? Ovviamente mi sforzo una P.A.D. Carry No dai, guarda! Dai, regà, dai! Dai, regà, andatevi uccidi! No, non è anche da ulti Ehi, non è una bestemmia, vero? No No Beh, dire che è Dio e Cristo In effetti In precazione No, no, era... È una invocazione La donna è ninja, oh! Ma quanto è esatto ninja, regà? Guarda lì il danno Luigi, lasciatata Oh mio Dio, la Morgana ha preso il blu Guarda chi c'è dietro ninja L'ho ammirizzata Di sicuro di me ne ho persi pochi No, vabbè Figurati Mi sembrava... Sono morto, che padre Che sculata però quella Adesso hai buzzato a xpd Non ho scula proprio Ma come? Senza esitare Ma è bellissimo E questo è un fighissimo caso sotto a casa di nonna, no? Ma che... mutati se devi parlare di nonna! Perfetto, ci mancava C'è anche la nonna nell'ultimo bravery Ultimit nonna Tranquilli raga Non è successo niente Io se non muoio almeno da un mob Ogni ultimate bravery non sono nessuno Ma anche normalmente Sì, infatti non si ne sono vergognati Il busto! Madonna che danni che te fa quel Garen Ah, però perché non hai visto i miei danni Snake sei... No raga, dobbiamo fermarlo quel Garen Quello c'è, no? Ci è shotta tutti, sappiatelo Che ci è shotta Davvero, Tilan Ma hai visto o mi avevi scorto una pila di carry che d'anni fa? No Perfetto Riesco a non vederla Ah! Devo farmare Che cose, lui ci... No, no, ora no Ragazzi, ma ci permagancano Che palle E che badame Oh, l'ho uccidò Vaffaccuna, 75 scudi C'è proprio, oh, il genre più divertente ci han presi contro Sì, veramente Porca no Vabbè, intanto le ward non ci servono a niente comunque Le mie... io dovrei rompere lo scudo con le wildcard, ma non c'ho... Ho capito, ma almeno lo vedi arrivare, cioè, un po' prima Un po' Beh, io poi ho preso... Aspetta, faccio caspero, mi fa neanche farmare Mi viene a pocare sotto la tua È vero Ovviamente, comunque, essere camperati in questa situazione è davvero imparanzante Anche perché... Cosa vuoi, Luigi, cosa vuoi? Un gank Eh, io sto cercando di darmi una mano a tutti Di non morire in giungla? Luigi, questa wave non la perdo, non ti preoccupare Perfetto Forse riesco a formare qualche miglio, meglio Non sapevo I got it! We cut the damage Oh, se prendiamo la torre prima, sembra tipo troppo boss, eh? Vai Luigi, fai... No! Ah, scappate! No, ragazzi, muovi pure da questo, no, eh? Dai, ma è insostenibile Ah, ma pure a D sta Morgana Ma cosa? Sì Vabbè, raga, in botto però siete imbarazzati Ma adesso che cosa sono rimasti Eh, questo gank ci fa di tira No, mi sa che sono più imbarazzante io, Snake È tre contro due, qua, eh Eh sì, e poi, soprattutto, mi sporto con le scarpe penetration vincerà tutto Vabbè, ma non è che tu io vedi qualcosa a quel Garon C'è solo le scarpe e quella è partita dentro da Lanza Stai vincendo i 30, facendo melee, facendo delle spalle e delle cose, melee Mi sta uccidendo Sei morto? Almeno c'hai armor nella build Eh? Almeno c'hai armor nella build, vabbè Cioè, io sto giocando una lane contro Morgana, che ha 10 di AD Mi trova di auto-attacco e mi uccide Ma, eh, ragazzi, avete notato che nel build c'è sia la Trinity Force che il Lich Bane? E la tua? Sì Beh, buono Guarda, ho la ulti, 5 secondi, aspetta 5 secondi Vai, 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 go, 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 go Ma che dove? Godo Mi so che sei morto, Snake Ma ti muovi? Bravissimo, Luigi Eh, non sono in range di ulti, io Ma dai Te odio, bro Mancano Ma sei, guà Sei imbarazzante, Ninja Sei pronto ad essere gancato da Evely Sei imbarazzante, Ninja Mi sa che non sarà più la prima che vieni Eh, mi sa che no Mi sa che non vinceva nemmeno questo Sto badi proprio Oddio La shotto, la shotto Oh, raga, raga Oh, vai Oh mio dio, che danni Manca Morgan Oh, posso iniziare a ammazzare Lo scudo di là, non avrei un po' di addi Scusate, ma noi ce l'abbiamo Un jungler Eh, no Ah, ma non stavamo giocando a bocce Ah, mi sa che no Manca Morgana Dai, raga, dai, raga Usciata, usciata La volevo Ma piglia al culo Dai, qua me c'è me dai Raga, usciamo così, dai Vai, raga, abbiamo pure l'altra Abbiamo pure l'altra Che pro Figura, eh, questo C'è gente che gioca di patch Vai, raga, vai E soprattutto sono frangi Deviamo Katrin Vai, go, go, go Ma cosa deviamo? Butta giù, butta giù No, 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 no Vai via, dico La torre Vai, raga Io ho brutta esperienza con la torre Vai, sti cazzi Buttateci tutto Buttala giù Mi guido Facchemi andare avanti Che correte di più No, raga, dovevate prendere? No, sicuro Ma dove mi chiamavano Il trattore fortune? Dai, raga Dai, raga, stami in vantaggio Stami in vantaggio Ma è pure se non Stiamo dietro, eh No, devo stare per forza davanti Comunque quella torre la dobbiamo prendere Stai avanti Quella torre la dobbiamo Guardi, però ti supero sempre Mi sa che te stavano aspettarla Dentro che dici Beh, sì, ma no, raga Lui dice, lui dice, dammi una mano Ma ragazzi, ho usato un teleporting top Eh, io l'ho usato un teleporting top Eh, però io mi serve di più No, mi serve di più a me, lui Mi serve di più a me, a dirvi Perché dovrei sfarmare, però vabbè Oddio, ho preso un mito Ma sono... se vado un mito Ma sono... se vado un mito Da quando uno a venti, quanto muoio Eh, ma non la vio più Quel milione è mio Oh, shit Arrivo ninja, la gancola dietro Adesso vuole Sono morto Ti ha one shotato, veramente? Eh, sì Flash, flash Che ci vuoi fare? C'ha... No, vabbè Ma che ti flash ho fin con la shot teleport? Non mi aspettavo neanche che... Vabbè, però quella c'ha avuto culo, eh C'ha avuto un culo sfatto Ma no, ma quanto sono... Ti ricordo che c'è lo smite, lui Smite, lui, smite Il beat, vai, Luigi Dai, vai Oh No Madonna, questo Luigi Madonna, questo Luigi Madonna, dai Oh, lo slow, lo slow Dai ragazzi, dai, uccidete Madonna Easy, Luigi, scrivi gli easy Eh, ci ho lasciato restricted Faccio io Easy Lol Sto arrivando No, 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 quello è grosso Ah, mi sa che manca Karen, ragazzi Ti sembra? Ma Karen è quello che c'ha tipo un cararmato sulla schiena? Sì Ah, ok Dai, che mi manca poco per la... 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 Attenzione Ragazzi, ci sono, ragazzi, ci sono Vi do qui qui Ragazzi, 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 su Lux, su Lux, su Lux Non è vero Non è vero Che è il culo Arrivo ninja No, non morire ninja Ninja, ninja, no Ninja No, ninja Dimmi tu Vai Luigi, vai Luigi, metti il trinket, metti il trinket Eccola Oh Mamma mia, cominciano a cadere come... Easy per due Non ce l'avevo il trinket Si è perduto Oh, 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 oh Oh, snake, arriviamo, snake, beta, beta Guarda, il teleport della vita Ingaggia, ingaggia Ci sto provando, ci sto provando Su Catering, su Catering, che è più facile, su Catering, che è più facile Oh, vai Vicko, vai Vicko Oddio Vicko è partito Vicko, meccanics, ha perso metà vita con un petto Oh, è arrivato Uccidetela, uccidetela Uccidetela Nooo Che vale, però Si salvano sempre con un HP Oh, raga, posso fare un altro item Ah, la bozza 3 Ninja, ninja, ninja Questo lo shottiamo, lo shottiamo Vai, vai, sto tornando, vai Vai, credici, credici Vai Catering, Catering Oh, good lord Oh, ninja Ninja, se a posto di segui Catering, che tanto non la killi Andavi su Garan, forse in 3 ve la killavate Oh, no Nooo Dylan, Dylan, Dylan Ink, ink No, 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 ok l'ho stoppato Uh Ma stai, ma stai bene che oggetti mi tocca a faz, schnaght, no? Io sto andando per la void, sta, vero Ragazzi, il Gampers ci farà vincere Ma sono fatto il macete Dabba io inizio a jungler, ho smite, ho Gettato a jungler Wow Io arro, man Go, 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 go Beh, vai, raga, se la potevo ancora fa, ce la potevo ancora fa Ho anche il Deathfire Grasp, questi sono francesi Ah, vedi, non si smitare Dai, ma no Non si smitare così presto Ma non ci stava nessuno Mi faccio vedere che mi potevano fare la base Eh, che ne sai Eh, appunto Oh, top, 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 top Arrivo Ma che cazzo È il momento, è il momento, è il momento, sta arrivando, sta arrivando Non ti fa danno Non ti fa danno, ribadisco Luggo, che cosa c'è, easy Cosa c'è, easy Preso Like a bronde in the sky Ah, bronde Luggo, arrivo, ragazzi Lasciatemela, lasciatemela Ma no, no Vabbè, lui, però Perfetto, prendiamo top Grazie, lui Cioè Retardo sempre, comunque, lui Ho aspettato che morisse, bro Eh, sempre, te lo erano Oh, ragà, ragà, ragà Oh, guardate Snake, oh Ma Snake corre Eh, vedi, ho con Evelyn, però è tosta Oh, Evelyn e Garen, Garen double buff, ho visto bene Oh, busciamo Andiamo, andiamo, busciamo, busciamo Ragà c'è L'ho missato, l'ho missato, l'ho missato, l'ho missato, l'ho missato Sono morto Corri, corri, corri 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 oh raga 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 sto a prendere la top oh raga raga vai push push open the gates ci sto a provare ci sto a provare no ho preso la top la ultima gara l'ho preso l'ho preso raga ho preso la torre sto morendo ho preso la torre come come mi devo fare la proteggere io la torre vabbè era morti che chissava zio eh peccato che non ci possa arrivare la base la mia build non c'ha proprio senso eh io ho questa void staff ragazzi c'è sto c'è sto raga la void staff è un item fondamentale su video mi raccomando si si è anche l'elder lizard su gianna support guarda quel gara in quanto è strafottente guardano è il momento che muore oh madonna oddio l'ho già fatto è fiero morto e invece no no invece si però no veramente no easy per 3 no porco cane ogni volta che faccio una kill dirò easy per il numero delle kill che ho fatto vai uccidete vai 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 scappa scappa usciamo usciamo oh oh vai 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 go go fermatela fermate garen 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 oh raga oh qua qua oh 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 raga la top la top la top è figo oh oh dio dio figo no busha 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 ma che cazzo ma che cazzo fai di una busha cioè guarda qui qui guardate qui guardate qui guardate qui ragazzi ragazzi ma non potevo uccidela nemmeno se volevo eh però ci sei sentito molto vicino che falle madonna che cancro dai dylan vai dylan raga il telepar sta arrivando ok c'ho l'harder di nizzardo e roba inc inc morgana no così puttana ma che era quel flash puttana dai devo prendere la torre 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 tanca la torre corri tu zitto no ha usato la ultima warp oh hot cross no raga non ce la farete mai non ce la farete mai caetiamolo oh forse forse tutti quanti lo riuscite a caeta no è morto sono morto oh no luigi save dai però non è morto riposo oh ma che hai mai oh devo fare un altro devo fare un altro pezzo oh raga è arrivato il momento di fare la blade of the runnit king oh 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 chi è quello più fidato tra di noi io 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 ho 3 io ne ho 3 io ne ho 3 e pure ne ho 3 oh raga raga con la blade è game questa è vinta con la blade se riesco a chiedere la blade of the runnit king comunque abbiamo due smith abbiamo due smith baron e ancora, negli ho fatto un baron o un dragon baron 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 sneak i baron oh oh pushiamo questo pushiamo questo vabbè ma.. è l'unico modo per vincerla per casino non smithan non smithan porscano ora 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 intanto adesso mi sta smicciando dai ragazzi dai ragazzi usate tutti trinket red dap yutto eh ci lo incul da un ligno go 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 al momento madonna il critico attenzione luigi a quanto ce l'hai tu? qualcuno lo tanti, qualcuno lo tanti no dico a quanto level tuo madonna gli faccio 43 ad auto ok a 1.400 smida oh cazzo raga avvicinate un pochino bello oh raga non mi ha preso no vabbè scappa scappa vigo scappa no oh shit ciao eh non lo so non lo so gare nu dir è una bella gara devo ammettere peter è una marcia mo' ho finito no ho finito guau e io ho la stati cipa win win abbiamo il baron sapete no adesso devo fare il reggio però se c'è il ginzo o potevo vincere eh lo dovevo usare un pochino pochino prima no Luigi perchè hai perso il baron sei da report voglio salvare lì dobbiamo difendere oh sorry easy per 4 ho fatto un altro kill no ragazzi ragazzi la torre madonna lo static madonna il danno madonna eh ci sta una sciuta ci sta una sciuta madonna oh ninja ma critato dai vai vai dai vai no vabbè vabbè non usati il deathfire grasp per questo si è salvato raga qualcuno col teleport s teleporta da qualche parte brucioio botta adesso che c'è il tp no no ma che devi difendere la base sei scemo vuoi che sei scemo madonna si stavi sulla torre sulla pozzia è rimorto eh l'istinto animale io mi sono scordato c'è la katalas madonna il counter già ha entrato il blu davvero katalas è il coso mi sono scordato io non capisco facciamo gli altri metti breve e ci becchiamo tutti gli svel oh oh sto arrivato sto arrivato nooo è la è la l'ho visto t'ho visto t'ho visto t'ho visto puttanella t'ho visto ma perchè di là è avuto non lo so oh raga raga è il momento ci sono oh shit oh raga raga è il momento non so di chi è ma è il momento è il momento raga c'è il drago c'è il drago probabilmente oh stop nooo ha flashato ah è andato di là che tana ho famoso drago no 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 famoso drago no 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 raga stanno tutti perchè tenete preoccupati CHAPA prendo la base prendo la base eh che cazzo ci fanno oh no la nostra base la nostra tu pusha ti prego ti prendo la base corri eh ci ho provato ti ho trovato davvero tanto no vabbè abbiamo perso raga c'è no no l'ingiatore può prendo la base vai vai la tua squadra ti expect ma non ce l'ho cioè raga loro stanno facendo la nostra base no no non fai nemmeno fuggi col coso dai che merda non sono riuscito neanche chiedo che vinso vai vico gg dove vado lui fa un culo oh vinco ma è vinco save x no no v'è qua x oh lo uccidi uccidi la qualla puttana uccidi 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 mozzichegli in testa ffff e b è qua che palle però raga lux fermate 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 la stanza sta maledetta fermate la roma attacca ma non i nostri danni mamma mia che danni ok io ho il me joy abbiamo vinto ok raga io ho vinto abbiamo vinto alazze che ok raga posso posso andare a prendere lini no ma che finita ricordo staglione della botte di portaccio loro top 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 ho il tp io comunque quindi al prossimo push cazzo però ai calzari del mago no work con il mantello del sole e ma ci faremo ah no no non work ma scusa perchè la b salvolta perchè diminuisce la magica è stata una macchina ah no no però la bimba lo devo fare per ultimo no mi racconta che non ci arriviamo dai no numero di x sostituzione che vinciamo prima x io continuo a pushare poco anche la ultima sono no 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 la base è scoperta ragazzi tornate no devo vincere è tutto scoperto ninja dai provamoci ma sto rin sto garan oh ragazza morgana la chiudiamo eh ci sto ci sto morgana morgana ci sto e vabbè ehi garan garan andavo su garan buttamolo giù buttamolo giù provamoci a tutti i costi dai guarda quanto l'ho curato porco cane voglio colgare ninja la gara continua no ahhh puttana no sta facendo xpec no xpec no xpec che palla no no c'evo credo oh regà 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 eh ho dovuto manda via cosa io mandare via cosa che tanto ti fa pure oh shit oh shit oh shit ahhh che sentino risponde con il suo scudo lo stun se ne va se ne va dio corri corri Luigi no nooo per pochi metri per pochi metri ahhhh muore come una merda ci sono lo snake eh qua gg ora dovevo fare la static ma non ci stava l'iniciatore in base loro? a spalla base loro eh mi ha shottato katrin con 2 auto attack ahhhh io pensavo che stavo per vincere cazzo dove stai? gg però sta partita ci siamo dati piccini eh 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 talmente piccini che mi sono quasi spaventato io no no veramente ho a push e mica male no io sono riuscito pure a chi lavorava a tagliarmi stai mi rattando come ha fatto ninja comunque ragazzi sperando che anche questo video mi sia piaciuto e questo speciale dell'ultimente bravery vi sia piaciuto vi rimando a un prossimo video sempre qui sul mio canale ricordatevi di mettere mi piace commentare e fare quello che vi pare e a presto ciao salutate ciao 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 che merda gattito gattifattito ma come ne hai gattifattito? a me? mi hanno riuscito